I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Modica hanno tratto in arresto in fragranza due albanesi per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione dei militari si è svolta nel corso di un normale servizio di controllo del territorio volto a prevenire reati e verificare l'applicazione delle normative di prevenzione del contagio. I carabinieri si sono insospettiti della condotta di guida di un soggetto al volante di una berlina nella frazione marinara di Dona Lucata ed hanno deciso di sottoporla a controllo. La prequisizione ha dato esito positivo, infatti si è indosso a uno degli occupanti che sotto il sedile del passeggero è stato rinvenuto dello stupefacente. I due giovani braccianti agricoli della zona avevano oltre 40 grammi di marijuana di cui buona parte già suddivisa in dosi e pronta per essere ceduta. Inoltre avevano materiale per il confezionamento, circa 100 euro in contanti e un bilancino di precisione. Sicuramente si erano già organizzati per rifornire gli acquirenti che nelle ore del coprifuoco dovevano rimanere nelle proprie abitazioni. Al termine delle operazioni sono stati arrestati un 25enne e un 19enne, entrambi incensurati. Gli arrestati sono stati sottoposti a disposizione del pubblico ministero di turno della procura di Ragusa in attesa di convalida. Le operazioni, volte al contrasto dello stupefacente, si sono svolte su tutto il territorio di competenza e si rivolgono alle fasce giovani della popolazione per scongiurare le gravissime conseguenze dell'assunzione di droghe.